Ora raccontiamo ancora una storia legata al muro, la parola che abbiamo scelto lì lì è ovest, perché torniamo indietro nel tempo con una frase, non voglio essere l'ultimo che spegne la luce. Era il proverbio che tutti ripetevano nella Germania Est, significa voglio andare via da qui, prima che... lo ripetevano le persone che vedete, scorre dietro di me, e che dalla Germania Est sono fuggite. Una di loro era il protagonista di questa storia, Andreas. Nell'89 Andreas ha 19 anni, vive a Dresda, vede i genitori di suo migliore amico presi dalla Stasi, la pulizia segreta, e li vede tornare dopo le torture, tramutati in fantasmi. Vede lo Stato vendere i prigionieri per guadagnare marchi, marchi occidentali. Andreas vuole scappare, tenta diverse volte di fuggire, in maniera anche rocambolesca, una volta si attacca a un treno in partenza per la Cecoslovacchia, ma ogni volta fallisce, finché decide di fare ancora un tentativo. Attraverserà a nuoto un fiume ai confini con la Polonia, perché lì vive un amico che può aiutarlo. È il 6 ottobre dell'89, manca poco più di un mese alla caduta del muro, ma lui naturalmente non lo sa. Va al confine, nella città di Görlitz, bussa alla porta dell'amico che dice «Vengo con te», ma per farsi coraggio questi due ragazzi fanno un'ultima notevole bevuta. Prendono uno zaino lì, ci mettono dentro un ricambio asciutto, dopodiché sbronzi, si tuffano in acqua, ma pieni di coraggio, ma sbronzi, si tuffano in acqua. Ed è una cosa quasi tragicomica, perché a metà del guado vengono avvistati dalla polizia. Si accendono le luci delle vedette, i due amici si immergono sott'acqua, ma il fiume è troppo basso, gli zaini rimangono a galla e quindi vengono naturalmente beccati, portati a riva e arrestati. Per fortuna il mattino dopo li liberano perché hanno in previsione quel giorno, c'è una manifestazione importante, e hanno già in mente che prenderanno tantissimi prigionieri, quindi hanno bisogno delle carceri liberi, ma se ne vanno a suon di manganellate e tornano a casa. Andreas a quel punto è davvero abbattuto, perché pensa ancora una volta che sarà lui l'ultimo a spegnere la luce, ma cosa succede? Che la sera del 9 novembre lui è in un bar di Dresda, davanti a una birra, entra uno e gli dice è caduto il muro, e dice ma va, figuriamoci, e resta lì al tavolino a fissare la schiuma della sua birra. E invece ore dopo, quando il bicchiere è ormai vuoto, arriva la conferma, è tutto vero, Andreas stavolta può davvero andare all'ovest, lasciare tutto, gli amici, la famiglia, non tornerà mai più, diventerà cittadino del mondo e lascerà chi sia qualcun altro a spegnere per ultimo la luce dell'est. Ed è qui con noi, Andreas. Ciao, benvenuto. L'ultimo, possiamo definirti, no? L'ultimo tedesco dell'est che ha provato a scappare prima che invece si potesse farlo. Tu parli benissimo italiano e dici subito perché. Vabbè, durante un viaggio ho conosciuto dei ragazzi di Roma, mi hanno portato a Roma e mi sono innamorato di Roma. Ma dunque, tu hai aperto una pizzeria con un amico. Oggi ho una pizzeria. E una delle tue pizze si chiama pizza DDR. Sì. DDR. Però non è un riferimento alla DDR, perché... No, DDR è Daniele De Rossi. Ah, è Daniele De Rossi. La lanciatore della Roma. Quindi, un tedesco dell'est. Però dobbiamo sempre spiegare. Ma è vero che ai mondiali di calcio tu non fai il tifo per la Germania? No, non riesco. Non so perché. Io dico sempre perché il mio paese non esiste più, però non è vero. Sento... È un po' colpa del 2006, quando l'Italia vince... Mondiali di calcio del mondo. Sì, che era un bellissimo mondiale in Germania, però ci ha portato un nuovo nazionalismo e patriotismo. Ecco, scusa, Andrea, ma domani invece è serio. Il nazismo è ancora vivo, perché tu sei di Dresda e l'altra settimana, Lilli, il comune di Dresda, con un'iniziativa senza precedenti, ha dichiarato l'emergenza nazismo. Per precisare, non è stato proprio il comune, però un partito... Un figlio comunale. Sì, 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 sì. Ma è così pericolosa la situazione? Per me, secondo me, dovevo dichiarare questo stato di emergenza allarme già anni fa, perché a Dresda c'è un problema. Sono anni che c'è. Ogni lunedì ci si incontrano delle persone facendo una manifestazione. Sono questi nuovi populisti, persone, gente di destra che si incontrano e secondo me è stato dichiarato questo allarme, è stato fatto per il motivo che stanno anche in Germania, come quasi tutta Europa, aumentando i voti dei partiti populisti. Anche di destra, che si chiamano populisti, però spesso sono anche di estrema destra. Senti, intanto io ti volevo ringraziare e vorrei ricordarti che la tua storia e le foto che scorrono alle nostre spalle sono parte di un progetto del fotografo Tommaso Bonaventura e di Elisa Del Prete, che raccontano la vita dei cittadini della DDR dopo la caduta del muro ed è in mostra proprio da oggi, voglio dirlo bene, a Camera e al Museo del Risparmio di Torino e alle gallerie di Piedicastello a Trento. Grazie.